È morta a 96 anni, l'attrice premio Oscar Angela Lesburi. La notizia è stata confermata dai familiari e diffusa via social network. Nata il 16 ottobre del 1925, tra pochi giorni avrebbe compiuto 97 anni. Nota in tutto il mondo per il ruolo di Jessica Fletcher nella Signora in Giallo, l'attrice aveva recentemente ricevuto un Tony Award alla carriera che non aveva ritirato di persona. I motivi della sua assenza erano stati resi noti da una persona vicino alla Lesburi nel luglio scorso. Angela ha apprezzato il riconoscimento, ma a 96 anni viaggiare non è più facile come un tempo. Angela soffre di una serie di cose, tra cui l'artrite. Inoltre, stare in una sala con 6.000 persone quando i casi di Covid continuano a crescere ha fatto ritenere ad Angela che restare a casa fosse la cosa più giusta da fare. La morte dell'iconica attrice di teatro e televisione è stata confermata da una dichiarazione pubblica da People. I figli di Angela Lesburi sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles a 1.30 di oggi, martedì 11 ottobre, a soli 5 giorni dal suo 97esimo compleanno. I funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni.